Novità per l'illuminazione pubblica. Dal 1 gennaio è partito il nuovo servizio di pronto intervento Guasti, attivo 24 ore su 24. L'amministrazione ha seglato una convenzione con l'azienda Enel Sole per la gestione dei circa 3.100 tra lampioni e punti luce e dei relativi 93 impianti presenti nel territorio comunale. Con questa novità sarà possibile diminuire i costi di manutenzione e di adeguamento degli impianti con l'utilizzo di nuove tecnologie per il risparmio energetico. Oltre a questo saranno garantiti interventi più rapidi e quindi maggior sicurezza per i cittadini. Le segnalazioni dei Guasti possono essere fatte al numero verde 800 90 10 50 o all'email sole.segnalazioni.enel.it Fino al 18 febbraio è possibile partecipare al bando generale di concorso per la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel comune di Pontassieve. Il bando serve ad aggiornare le attuali gradatorie e per assegnare gli appartamenti comunali che saranno disponibili nel 2013. Sono tenuti a presentare domanda anche coloro che già sono presenti nelle liste di assegnazioni comunali. All'interno del bando consultabile sul sito del comune di Pontassieve sono indicati criteri per la formazione della graduatoria generale e di una speciale relativa alle giovani coppie e agli anziani ultra 65 anni. Per informazioni Ufficio Servizi Sociali e Politiche Abitative del comune di Pontassieve al numero 055 83 60 342. Il Cinema Accademia ospita Cinelandia, la classica rassegna annuale di film d'autore organizzata dal comune di Pontassieve. Giunta alla sua diciannovesima edizione, Cinelandia, la terra dove circolano le idee, quest'anno propone pellicole dell'attuale stagione tra le più premiate nei vari festival internazionali. Ogni giovedì alle ore 21 al Cinema Accademia in via Montanelli a Pontassieve. Ti senti strizzato come un tubetto? Prova la raccolta differenziata e tornerai come nuovo! Il metallo riciclato, infatti, torna a metallo. Così rispetti l'ambiente, risparmi risorse naturali e riduci rifiuti. La raccolta differenziata fa stare meglio a tutti! Campagna promossa da AER, ASM, CIS, Publio Ambiente e Quadrifoglio.